bene siamo qui per un annuncio serio dal 24 novembre al 6 gennaio mi raccomando vi aspettiamo tutti ad andrea alla villa di babbo natale alla casa casa eh beh la venduta da temperata si è presa la casa per risparmiare e approfitto per dare un saluto a tutti i ragazzi del centro zenith perché ci saranno pure loro dal 24 al 6 al 24 novembre al 6 gennaio voi alla casa di babbo natale ad andrea 31